Buongiorno a tutti, con il video di oggi proseguiamo nella lettura e nel commento dei documenti diplomatici italiani. Siamo arrivati al 13 novembre 1944, ovviamente, e ci portiamo sempre più avanti all'interno di un discorso particolarmente fusco, particolarmente complesso delle relazioni del governo italiano e del Regno del Sud rispetto alle corrispondenze straniere. Una situazione che ci porta ogni volta a una sorta di padema d'animo all'interno delle possibilità, delle occasioni colte, mancate, impossibili da realizzarsi, tutta una serie di questioni che ovviamente vanno un po' a toccare il passato, il presente e il futuro dell'Italia all'interno di una dinamica bellica ancora tutta da ben definire, soprattutto per i confini del nord. Detto questo, iniziamo con una lettera data 13 novembre del sottosegretario agli esteri Visconti Venosta al vicepresidente della Commissione Alleata, Stone. I rifornimenti per via aerea ai patrioti dell'Italia settentrionale hanno incontrato negli ultimi tempi serie difficoltà a causa delle cattive condizioni atmosferiche, della notevole carenza di macchine e della necessità, se ne sono certo, di dover dare la precedenza alle operazioni di Jugoslavia. Per macchine intendo, penso, per mezzi. Stando alle informazioni che non ho modo di verificare, che quindi vi fornisco solo a titolo indicativo, sembrerebbe che a un certo momento le autorità britanniche responsabili di questo servizio siano state indotte a considerare l'opportunità di dare l'ordine di sciogliere le nostre formazioni in Piemonte e in Liguria, in considerazione tuttavia della grave questione morale e le conseguenze materiali di un tale atto, si preferì invece esaminare la possibilità di formare vicino alla frontiera francese depositi di viveri e vestiario ai quali i patrioti avrebbero potuto accedere con slitte e sci. I depositi sarebbero stati formati dal servizio americano a cui sarebbero stati assegnati ufficiali italiani. Anche il servizio britannico da parte sua avrebbe formato i propri depositi. Sembra tuttavia che ci siano non poche difficoltà da parte degli americani per l'approvvigionamento di viveri e vestiario e altre dovute al fatto che i francesi molestano e maltrattano gli italiani che sono così costretti ad attraversare la frontiera. Altre difficoltà inoltre derivano dal fatto che i fondi che sono stati concessi dagli americani al Comitato di Liberazione dell'Italia settentrionale sono dovuti al sistema seguito nella loro distribuzione arrivano solo in minima quantità alle bande patriottiche che sono invece proprio le persone a cui dovrebbe andare la maggior parte dei fondi. Ci sono delle difficoltà molto grandi a livello di logistica ma anche a livello di volontà. Le sarei grato, caro ammiraglio, se volesse gentilmente controllare le informazioni di qui sopra al fine di giungere a una soluzione atta a migliorare le condizioni dei patrioti e ad aumentare e sviluppare la loro efficienza ed attività che è nel nostro interesse e nell'interesse comune. Lei sa che il governo e l'intera popolazione italiana hanno a cuore questo problema e le sarei molto grato se ci desse gentilmente tutte le garanzie possibili in merito. Potete essere certi della nostra completa e approfondita collaborazione. C'è una nota, Stone risponde il 18 novembre, virgolette, ho ricevuto la vostra lettera del 13 novembre e desidero assicurarvi che l'intera questione dell'approvvigionamento di patrioti nell'Italia settentrionale, sta ricevendo la più seria considerazione da parte delle autorità alleate. Ho discusso a lungo la questione con i servizi interessati e sono lieto di assicurarvi che si intende assegnare un tonnellaggio maggiore e considerevole di forniture durante l'inverno in corso. Per quanto riguarda la particolare situazione delle formazioni patriottiche in Piemonte e in Liguria, si stanno prendendo provvedimenti con le organizzazioni competenti per esaminare la situazione e trovare i mezzi per alleviarla. Diciamo che è una risposta molto diplomatica in tutti i sensi, ma che potrebbe in qualche modo offrire uno spiraglio di miglior considerazione. Passiamo al 14 novembre da Madrid l'incaricato d'affari Mascia al sottosegretario agli esteri Visconti Venosta. Assicuro a vostra eccellenza che non mancherò di informare la mia azione alle direttive impartitemi con il dispaccio del 22 settembre. L'atmosfera in cui si svolgono i nostri rapporti con questo paese è però singolarmente pesante e le circostanze non sembrano per il momento influire in senso favorevole a una auspicabile chiarificazione. È ovvio che in Spagna la situazione è particolarmente ambigua sotto tutti i punti di vista, nel senso che rimane un cordone umbilicale con Berlino, passante per Salò chissà, boh, non si sa, forse, ma soprattutto per Berlino per una questione anche proprio di legittimità politica ovviamente, visto che Franco reggeva il suo potere, il suo assolutismo di fronte ha una sorta di connubio tra altare e spada, quindi questo è un connotato peculiare della realtà della Spagna dell'epoca che poi, come sappiamo, si saprà ben riciclare per la sua vocazione anticomunista nel periodo della Guerra Fredda. La struttura antiliberale ed autocratica del regime falangista è una realtà che non si lascia facilmente obliterare e che si riflette sulle relazioni estere della Spagna, con manifestazioni particolarmente incresciose nei nostri riguardi. Se il dicastero spagnolo degli esteri, già sedi di tendenze debolmente moderatrici con Giordana, è suscettibile oggi con l'equerica di esplicare un'azione più decisa per adeguare la politica nel campo internazionale alle circostanze attuali e future. Le altre leve di comando della nazione, dai ministeri tecnici alla stampa, sono in mano di uomini liggi al falangismo e permeati di sentimenti filogermanici o perlomeno tanto opportunisti da non desiderare di creare difficoltà scostandosi da una via che credono loro imposta dall'alto. Quindi la censura e la volontà di avere un atteggiamento è più autonoma, più autoindotta da quello che viene detto rispetto a quello che può essere un dettato dall'alto. In tali condizioni non vi è da meravigliarsi se l'influenza predominante della falange, nei cui ranghi il crollo del fascismo e il risorgere dell'era democratica in Italia è stato ed è risentito con intensità di un tradimento e l'azione delle autorità da essa direttamente o indirettamente emanati ostacolano in forma spesso astiosa una politica più obiettiva verso il nostro paese. Quindi è una situazione molto complicata. Gli aspetti pratici di tale situazione si chiamano prolungato ed indebito e internamento nelle nostre navi da guerra nei porti delle Baleari, persistente elusione a discutere il grave problema finanziario in relazione al pagamento del debito di guerra spagnolo e allo sboccamento del clearing, tergiversazioni senza fine sull'argomento della restituzione del grano e in generale sugli accordi inizia, denuncia della convenzione aerea, applicazione della clausola di riscatto nei riguardi del little cable, atteggiamento della stampa generalmente pronta a carpire e mettere in evidenza in tono malevole il lato meno favorevole degli avvenimenti italiani, diffusione autorizzata di libelli quale il noto Italia Fuera De Combate, scusate il mio spagnolo, di Erez, compiacente tolleranza e spesso aperto appoggio concessi agli emissari del sedicente governo social repubblicano per l'esercizio di attività legalmente inammissibili, trattamento rigorosissimo, a volte inumano ed espulsione di qualche connazionale accusato di appartenere a sette massoniche o a organizzazioni comuniste. Questo è il pesante passivo della politica spagnola nei nostri riguardi fino ad oggi e purtroppo per quello che ci concerne la situazione non appare in questo momento suscettibile di un miglioramento rapido. Differenti sono invece le prospettive future per quanto riguarda l'atteggiamento spagnolo verso le nazioni alleate. Il ministro Leguerica, forse per farsi perdonare atteggiamenti passati, ha iniziato, per quanto sta in lui, una manovra di lento riavvicinamento agli anglo-americani, ostacolato però in questo da resistenze numerose e pertinaci. L'obiettivo principale dei suoi sforzi sono gli Stati Uniti, però anche in questa manovra affiora sempre l'ostilità verso il nostro paese, forse per ottenere almeno su questo punto il consenso delle forze opposte. Diciamo che sono talmente interessati a avere dei legami con gli Stati Uniti che per accontentare gli ultras più conservatori, diciamo, picchiano l'Italia. Diciamo, voi ci autorizzate ad essere più cordiali con gli anglo-americani, però noi continuiamo a essere particolarmente severi con l'Italia, traditrice eccetera. Poi traditrice di che? Visto che la Spagna neanche è entrata in guerra. L'obiettivo principale dei suoi sforzi sono gli Stati Uniti, però anche in questa manovra affiora sempre l'ostilità verso il nostro paese, forse per ottenere almeno su questo punto il consenso delle forze opposte. Persino nelle recenti dichiarazioni di Franco al rappresentante della United Press, che con la loro sovrabbondanza di enunciazioni di principi, di affermazioni ben poco aderenti alla realtà e di insinuazioni conciliative, hanno provocato un effetto opposto a quello desiderato, sollevando vibrante critiche e producendo irritazioni particolarmente in questi ambienti diplomatici anglo-americani. Si è voluta inserire la puntata anti-italiana riesumando innecessariamente la pugnalata nella schiena, tutti che si lamentano la pugnalata nella schiena, per creare un contrasto fra un preteso e nobile atteggiamento di questo paese nei riguardi della fragia. Pur essendo le acque così inquinate dal virus falangista, è da curarsi che l'evidente interesse della Spagna al mantenimento di relazioni amichevole con l'Italia e la Francia e al loro miglioramento si faccia finalmente largo nei cervelli di questi governanti e si imponga con l'affermarsi l'idea di una profigua necessaria collaborazione delle tre potenze latine. Certo, il prossimo arriva a Roma dell'ambasciatore Sangroniz, che assumerà il suo alto incarico dopo un breve soggiorno parigino, destinato a preparare l'insediamento del suo successore ed appianare le non lievi difficoltà assorte di recente nelle relazioni fra i due paesi, è di buon aspicio anche perché il nuovo rappresentante spagnolo possiede notevoli doti di intelligenza, tatto, abilità ed esperienza, gode la fiducia del ministro Legherica ed è ascoltato e forse temuto per la sua multiforma attività e per la sua influenza in molti settori della vita nazionale e dell'immigrazione spagnola. Egli ha sempre mantenuto cortiere relazioni con gli angloamericani, che lo volevano ambasciatore a Parigi e prima ministro degli affari esteri, può essere elemento fattivo di intesa e contribuire con la sua azione a ripristino di una sana normalità di rapporti in un'atmosfera ripulita da preconcetti e più aderente agli interessi generali in Europa che dovrà affrontare appieno il problema della sua ricostruzione materiale politica e sociale. Mi sembra una relazione molto interessante questa di Madrid, che ci dipinge una situazione spagnola molto più complicata di quello che si potrebbe pensare e molto più gravida di variabili rispetto a quello che gli stessi spagnoli considerano. Passiamo al 15 novembre, Visconti Venosta, sottosegretario, al ministro a Stoccolma Guarnaschelli. Come le ha noto, sono state in questi giorni riprese relazioni diplomatiche dirette con gli Stati Uniti e Gran Bretagna e con i paesi dell'America Latina, nonché con Polonia. Con l'URSS, tali relazioni erano già state riprese sin dal 14 marzo 1944. Cecoslovacchia, Belgio e Olanda sono rappresentate a Roma da consoli generali. Trattative sono però in corso anche con questi paesi per addivenire scambio normale i rappresentanti diplomati. Sappiamo che la realtà del Belgio è un po' complicata. A tutt'oggi non abbiamo invece avuto occasione di stabilire alcun contatto con il legittimo governo norvegese. Voglio opportunamente rappresentare quanto precede a Codesto, ministro di Norvegia, pregandolo far pervenire sotto governo nostro vivo desiderio normalizzare le relazioni con Norvegia, paese cui siamo uniti da lunga interrotta, ininterrotta, tradizioni di amicizia. Sempre, 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 ci sono sempre delle amicizie lunghissime, anche se ci sono stati veramente azioni, non in questo caso, però quando diciamo, vabbè, ci siamo pentiti di aver rotto le relazioni diplomatiche con voi, ma perché eravamo come negli Stati Uniti, no, con voi avremo almeno mille anni di relazioni amichevoli, anche pre-colombiane, possiamo dire, quindi questo è sempre molto interessante, queste considerazioni. Passiamo a una lettera confidenziale di Visconti Venosta a Sempraston, del 15 novembre. Il Comitato di Liberazione Nazionale riferisce che sta incontrando gravi difficoltà finanziarie per il mantenimento dei 45.000 patrioti che operano ai suoi ordini nelle valli alpine. La spesa mensile ammonta circa 45 milioni di lire. L'imminente inverno renderà molto più difficile il compio dei patrioti italiani che, a causa delle avverse condizioni climatiche, troveranno le risorse locali molto diminuite e non potranno contare su sufficienti riserve d'aria. Addirittura riserve d'aria, così è tradotto. Spero che sia metaforico. Appare quindi assolutamente necessario assisterli in questo periodo cruciale del fronte della resistenza, almeno con tutti gli aiuti finanziari possibili. Il Comitato di Liberazione Nazionale, mentre si propone di fare tutto ciò che è in suo possesso e con i mezzi a sua disposizione per aiutare finanziariamente i patrioti, le sarà molto grato se lei, caro ammiraglio, vorrà cortesemente sollecitare l'interesse delle competenti autorità alleate in materia per lo stesso scopo. Particolarmente gratita sarebbe l'assicurazione che le organizzazioni alleate in Svizzera continueranno durante l'inverno ad emettere fondi a favore dei patrioti che operano in Piemonte, come hanno fatto in passato. Fiducioso del vostro attivo e deciso interesse per la questione, desidero ringraziarvi anticipatamente per la vostra gentilezza e cortesia. Vabbè. Chiedere il lecito, rispondere e cortesia. Sempre il 13, scusate, passiamo, passiamo avanti, passiamo al 16, 16 novembre. Abbiamo una relazione molto corposa del sempre Visconti Venosta al vicepresidente Stone, 16 novembre. Allora, ho ricevuto la sua nota del 13 ottobre, in cui mi chiede di ampliare il pagragrafo 6C, ci riferiamo a quella bozza di miglioramento, chiamiamolo miglioramento, delle condizioni tra gli alleati all'Italia, per cercare di dare una boccata di ossigeno, soprattutto a livello finanziario, a livello di strutture, di meno gravami possibili nella realtà della società italiana. Quindi, del memorandum sulla trasformazione della commissione alleata che recita. Pronta smobilazione di sottocommissioni uffici e uomini della commissione alleata. Quindi cercare di snellire, dare meno oneri. Vorrei far notare in primo luogo che nella traduzione approssimativa inglese di questo paragrafo, il termine suppression, è stato usato in modo improprio come traduzione dell'italiano smobilitazione. Sarebbe stato meglio, cioè dire, una rapida smobilitazione delle sottocommissioni, delle sezioni, degli ufficiali dipendenti dalla commissione alleata? Desidero sottolineare con ciò che non si intendeva suggerire, sicché in sempliciter, l'eliminazione totale di tutte le sottocommissioni, sezioni ufficiali delle commissioni alleate. Si trattava dell'eliminazione di alcune sezioni e della riduzione sostanziale di altri. Ampliando ulteriormente, sono dell'opinione che i principi generali dovrebbero essere i seguenti. A. Una graduale trasformazione della commissione alleata da un corpo militare a un corpo civile. B. L'eliminazione di quelle sottocommissioni e sezioni che, come menzionato al paragrafo 3 del memorandum, non hanno alcun collegamento diretto e immediato con lo sforzo bellico, né mirano a un aiuto diretto, sostanziale e concreto ad esso. Ad esempio, è ovvio che le sottocommissioni e le sezioni collegate con i ministeri della giustizia e della pubblica istruzione, le cui attività, tranne che molto indirettamente nel campo della legislazione pura, non hanno alcuna relazione con la condotta della guerra, dovrebbero essere incluse in questa categoria. C. La sostanziale riduzione di tutte le altre sottocommissioni e sezioni di pertinenza, unitamente alla rapida e progressiva soppressione di tutte le sedi territoriali, il cui compito è quasi esclusivamente quello di esercitare quel controllo che si intende eliminare. Il principio di base in questo campo dovrebbe essere quello di uniformare le funzioni della commissione alleata ad una cooperazione diretta, al centro, con le più alte autorità italiane responsabili per ogni campo di attività. Una volta concordati in sede centrale i principi guida sulle attività che queste autorità italiane sono chiamate a svolgere, ogni ingerenza dovrebbe cessare nella fase esecutiva e in tutte le questioni di dettaglio, eliminando l'attuale pratica di un'interferenza continua esercitata attraverso contatti diretti tra ufficiali alleati e uffici locali italiani. Questi ultimi dovrebbero ricevere i loro ordini esclusivamente dall'autorità centrale italiane, in altre parole la responsabilità di eseguire tutto ciò che di comune accordo viene deciso al centro dalla commissione alleata e il governo italiano dovrebbe ricadere interamente su quest'ultimo e sulle autorità competenti. Le autorità centrali italiane sarebbero state a loro volta direttamente responsabili nei confronti della commissione alleata per l'esecuzione delle direttive concordate. A questo proposito desidero aggiungere in modo generale che se a volte le interferenze alleate, sia che si tratti di questioni locali in campo strettamente tecnico, rispondono a un proposito ben intenzionato di venire incontro alle presunte carenze dell'amministrazione italiana, è anche vero che tale ingerenze soffocano ogni spio di iniziativa e senso di responsabilità, oltre a riflettere nella maggior parte dei casi metodi e abitudini che non corrispondono a quelli del popolo italiano e sono quindi destinate a rimanere improduttive. In questo stesso campo desidero anche fare riferimento all'aspetto particolarmente delicato delle ingerenze esercitate non solo al centro ma anche localmente in materia di nomina, rimozione, trasferimento e sostituzione del personale e sottolineare che, se dal punto di vista tecnico queste ingerenze hanno un effetto assolutamente contrario, esse sono da considerarsi superflui anche dal punto di vista politico. In considerazione delle ampie e determinate misure di epurazione che il governo italiano sta adottando di la trasformazione in relazione a quanto sovradilineato della commissione alleata e delle sue sottocommissioni in un unico corpo di cooperazione congiunta idroalleata con la partecipazione quindi di un'autorità italiana alla quale dovrebbero essere collegati tutti gli altri funzionari italiani all'interno della sottocommissione e che agirebbe come il loro naturale organismo di coordinamento. Lo status di questa autorità centrale italiana e di questi funzionari dovrebbe inoltre essere trasformato da quello attuale di ufficiali di collegamento a quello di veri e propri rappresentanti dei vari ministeri all'interno della commissione alleata. Ciò dovrebbe portare all'eliminazione degli uffici alleati all'interno dei singoli ministeri. Punto E. Questa trasformazione della commissione alleata in un organo prevalentemente civile porterebbe alla ribalta il problema di come inserire nel modo più appropriato nel nuovo quadro tutta l'importante attività svolta finora dalle sottocommissioni militari. In considerazione del fatto che il governo italiano è più che mai ansioso di sviluppare il suo contributo nel campo dello sforzo militare, e qui arriva il nocciolo, che gli sta più a cuore, vorrei suggerire che le suddette sottocommissioni dovrebbero per tutta la durata della guerra essere trasformate e riunite in una missione militare. Una volta terminate le ostilità sarebbe stato sostituito degli addetti militari. In tempi, le condizioni, i modi e i mezzi di una tale trasformazione potrebbero essere elaborati insieme tra le competenti autorità alleate e lo Stato Maggiore Italiano. Sono perfettamente consapevole che queste ultime spiegazioni sono ancora di carattere generale, ma la complessità e la vastità dell'argomento rendono estremamente difficile una circostanza più grande, specialmente se dovesse essere tentata solo da parte nostra. Desidero pertanto ricordare la proposta delineata nel mio precedente memorandum, ossia un esame congiunto di tutte le questioni relative alla trasformazione della Commissione al fine di giungere a una soluzione concordata. Un tale esame consentirebbe un chiarimento pratico dei rispettivi punti di vista e inoltre metterebbe in luce le ragioni sia di certe, spesso non pienamente comprese, interferenze alleate, sia di molta apparente impazienza da parte nostra. Visto che siamo su questo argomento vorrei insistere su un aspetto particolare della questione, se si intende davvero operare una trasformazione dell'attuale sistema di controllo che, seppur cro-progressiva, non solo nella forma ma nella sostanza, alleggerisca i già gravi oneri che gravano sul paese. È assolutamente necessario spezzare con decisione la tendenza innata di tutte le burocrazie, vale a dire quella di espandersi e attecchire creando la funzione al filo di mantenere l'organo. Per questi stessi modi, dove ho incorniciato un piano, bisognerebbe anche fare molta attenzione che le cariche che verranno eliminate o ridotte in un lungo, in un luogo, non tenderanno a riapparire altrove sotto forma diversa. Quindi cerchiamo di rendere gli uffici aderenti, necessari a quello che accade, non che li facciamo, facciamo accadere i fatti, così da creare gli uffici. In altre parole, una volta decisi i tagli, questi dovrebbero essere applicati in modo chiaro e definitivo, considerando che in Italia siamo maestri in questo. In caso contrario, qualsiasi riduzione o eliminazione rimarrà puramente accademica e la commissione alleata continuerà ad essere ciò che era in passato una commissione alleata di controllo. Prima di concludere questa lettera, desidero sottolineare, caro Ammiraglio, che le osservazioni e le proposte di qui sopra non sono formulate in uno spirito polemico, ma puramente in uno spirito di amicizia e con l'obiettivo positivo di cercare la migliore formula che favorisca una fruttuosa cooperazione. Apprezziamo pienamente gli sforzi compiuti dalla commissione alleata di controllo sin dai lontani giorni della sua nascita a Brindisi e non solo per quanto riguarda il controllo in senso restrittivo, ma anche per quanto riguarda le sue finalità di dare un contributo concreto e prezioso verso la soluzione degli infiniti problemi che il nostro paese ha affrontato e si trova ad affrontare. Sappiamo che in questo compito abbiamo trovato in tutti voi i reali amici che hanno preso a cuore i bisogni della gente e quella della nostra riabilitazione. Così come sappiamo che l'ulteriore cooperazione della commissione alleata è e sarà di inestimabile valore non solo nel compito immediato di promuovere lo sforzo bellico per la sconfitta del nemico comune e la completa liberazione del nostro territorio, ma anche nel prossimo lavoro per il risanamento economico e finanziario del paese. Tutto quello che accade, la missione, le missioni in America, eccetera. Ripeto però che è proprio nell'interesse di questi compiti che la responsabilità diretta senza la quale non può esserci un sano rilancio venga restituita al governo italiano secondo le generose intenzioni espresse dal presidente Roosevelt e del primo ministro Churchill già nel settembre scorso ad Hyde Park. Post scrittum, da quando scrivo questa lettera ho appreso della nomina del signor Macmillan a capo della commissione alleata, mi sembra che la nomina di una personalità politica al posto di un militare, prima c'era Alexander, sia indicativa dell'intenzione anche da parte degli alleati di trasformare la commissione secondo le linee previste nella presente lettera. Questo inizio è per noi motivo di sincero piacere come non meno lo è la conferma come commissario capo di un vecchio collaudato amico come lei e questo è sicuramente un punto migliorativo rispetto alla condizione generale che si era prospettata. Poi andremo a vedere nei prossimi giorni quanto di nuovo e quanto di buono può essere di peso da tali considerazioni e da tali modificazioni auspicate. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!